Oggi siamo con Lorenzo Marini per parlare di come si è inaugurato questo 2016, ma facendo anche un resoconto di un 2015 importante, non solo perché chiude sull'onda di un 18-20%, ma perché parliamo di 9 acquisizioni nuove e tutte senza gara. Questo per la comunicazione è veramente una notizia. Sì, è stato un anno molto bello il 2015, quindi stiamo finendo di festeggiare ancora adesso, questo inizio dell'anno. 9 acquisizioni per l'Italia, poi ci sono quelle per l'America, in tutto è un progetto nuovo ogni mese ed è una cosa molto interessante perché abbiamo iniziato a gennaio con Berlucchi, a febbraio con Pokerstar, a marzo con Nova Montà, aprile con Yulm per poi arrivare a Surgital per un progetto di pasta fresca negli Stati Uniti, poi Bertazzoni che è uno dei grandi player americani di cucina e forni, poi Codognotto, uno dei grandi leader italiani di logistica e trasporti, poi a settembre siamo andati con Chef, con Canavaciuolo, il corso per cucina e per diventare chef a distanza e poi siamo andati con Alessi, un nuovo incarico, un altro nuovo incarico da Pernigotti, un recentissimo granfruttato a Molini che è un nostro cliente da 5 anni ma che lancerà nel 2016 questo nuovo prodotto e abbiamo finito con un bel incarico internazionale che è il Salone del Mobile, quindi un anno veramente magico, un incarico al mese. E tutte assegnazioni dirette? Sì, devo dire che credo ci sia un rapporto tra l'assegnazione diretta e il posizionamento, cioè meno tu sei posizionato nel mercato più sei confondibile e quindi nell'incertezza invito un numero X di agenzie, più sei posizionato e più sei chiamato direttamente. Capita anche a noi quando dobbiamo scegliere degli amici, quando dobbiamo scegliere una marca, quando dobbiamo scegliere un paio di scarpe, più quella marca che ti attrae risponde al tuo bisogno, alla tua necessità, più è naturale che tu la scelga senza fare troppi giri nelle altre vetrine. E quanto in tutto ciò conta e pesa anche la tua capacità eclettica, perché ricordiamo non solo campagne, cioè l'anno scorso hai esordito Visual, hai esordito Logos Alphabet, tu poi continui nella tua attività di artista che ha il suo peso, sei stato anche a Miami, no? All'Art Basel. E poi hai finito l'anno addirittura con un profumo, quindi con un prodotto chinotto, vero e proprio. Allora, una volta David Ogilvy ha detto a Mario Messina, me l'ha detto perché Mario Messina è un caro amico, oltre che collega, che ha un'agenzia a New York da molti anni, ed era direttore creativo in Ogilvy al tempo di David, e il caro amico di Gavino Sanna, sono un grande, un pezzo della storia italiana in America, e mi ha detto che David Ogilvy gli ha detto, sai Mario, il pubblicitario migliore è il pubblicitario generalista. In tempo di iper specializzazione, questo sembrerebbe una imprecisione, una bestemmia, una contraddizione, in realtà è come se la nostra cultura umanistica ci aiutasse ad essere, a non avere barriere, a non avere limite, ed è importante sapere che puoi parlare un po' di tutto, cioè un creativo che fa solo il creativo, è un creativo sprecato, uno strategic planner che fa solo le strategie, un account che va avanti e indietro. Pensa di quanto talento si può allargare e quanta parte della conoscenza che hai entrando in un campo può a cascata cadere in tutte le altre discipline, per cui dopo un po' fare il creativo vuol dire scrivere libri, o fare il designer, o fare le lenzuolo, o fare un profumo, la creatività è un'arte espressiva, e quindi ogni volta che fai qualcosa ti metti in discussione. Per esempio quest'anno aver vinto per Visual, che è il nostro, non abbiamo brochure, è un libro dedicato al nostro lavoro creativo, aver vinto il loro all'International Award di New York e di Los Angeles, il Design Award è una cosa importante, anche qui ovviamente in Italia, il Grand Prix ed altre cose molto piacevoli. Quindi ogni volta che fai qualcosa, anche nell'editoria, anche nel campo olfattivo, del profumo, anche nel nostro lavoro di graphic designer, è importante vedere come ogni volta che affronti un mercato e non lo conosci hai un risultato, e questo non fa altro che mettere in crisi l'eccesso di specializzazione e di premiare una capacità di overview. In altre parole, la specializzazione ti dà la vista, la creatività ti dà la visione. In questo, il fatto di essere italiani dà un plus, insomma soprattutto oggi alla luce del fatto che lavori spesso a New York, quindi che ha a che fare col mercato americano e con i creativi anche americani. Cioè, vedi che potrebbe essere il momento buono per la nostra creatività? Penso che essere italiano in America sia un valore. Penso che essere italiano ti aiuti a vendere se fai, se cucini cibo, se sei chef, se sei architetto, se sei designer, se sei grafico, non se sei pubblicitario, perché la pubblicità non è nata in Italia e dunque noi dobbiamo, a loro, è un tributo che diamo al mondo agglossastro, un po' come la musica, un po' come tante altre cose di questo secolo. Però penso che la cultura umanistica ci insegna ad essere trasversali e credo che come i clienti fanno i creativi, i creativi possono anche fare i clienti. Ecco, esatto, i clienti fanno i creativi, l'abbiamo detto più volte, poi sarebbe meglio che forse si tornasse a capire chi lo è veramente e chi no. Sì, più tu ti fai pagare, più un cliente ti considera e ti chiede secondo lei cosa pensa. In America che ti pagano, in un paese dove ti paga, ti chiedono lei cosa pensa. Qui da noi non è importante quello che pensi, perché ti pagano così poco che l'importante è che tu faccia quello che vuoi. E quindi è un po' un gatto che si morde la coda, l'eccesso di servizio diventa servitù e quindi non ha più senso, no? Per la nostra fortuna è che chi ci sceglie sono quasi sempre delle aziende a grande impronta imprenditoriale o dove chi decide in pubblicità tante volte decide anche nelle strategie e quindi c'è un rapporto diretto e quindi ha coraggio. Quando uno sceglie una campagna attraverso un test, per esempio, fa delle cose ancora abbastanza antiche, vuol dire che non ha coraggio di scegliere e che decidi, deleghi praticamente, quindi chiedere agli altri cosa faresti tu. Ma questo riesci a farlo tu perché sei tu, perché sei Lorenzo Marini o potrebbe essere una via perseguibile, diciamo, dalla comunicazione italiana. Insomma, noi ci stiamo un po' appiattendo verso gare che non fanno felici nessuno perché quando poi si parla anche con le agenzie non sono soddisfatte perché non riescono a esprimersi. Certo, c'è un risultato, non far le gare. Vi abbiamo detto appena adesso quali sono i 12 nuovi clienti di quest'anno, ma non vi abbiamo detto quali sono le gare a cui abbiamo detto no, no, grazie. Quindi basta che qualcuno dica no. Il no è affermativo, è molto più interessante del sì. E non c'è solo un modo di crescere. Tre mesi fa, per esempio, una delle agenzie più premiate d'America, che era Veden & Kennedy, ha perso il conto di Heineken, che era un mega budget. Tre giorni dopo ha preso Budweiser. Quindi non è che l'azienda Budweiser, il CEO, il direttore marketing faccia una gara. C'è la migliore agenzia, che è expertise, che è libera, vai. Qui da noi non è un valore, conta molto più la conoscenza, però, insomma, l'Italia è così. Non credo che cambieremo né le agenzie né i clienti. Dobbiamo solo essere contenti di quello che abbiamo e lavorare con i sistemi che abbiamo a disposizione. Il generalismo, la cultura umanistica, la capacità di essere creativo in tutto ciò che succede è un valore, secondo me, non è un difetto. Tornando alla Marini Group, vi siete anche allargati, perché non solo una nuova sede l'avevamo annunciata a settembre a New York, tra l'altro acquisendo anche quello che è tutto il comparto delle relazioni pubbliche, ma anche qui a Milano. Sì, abbiamo raddoppiato gli spazi. Quindi quest'anno, il 2015 è stato magico, perché arriva Mario Attalla, arriva nuovi manager, stanno succedendo le cose importanti. Abbiamo raddoppiato gli spazi, e che non vuol dire che siamo grandi, vuol dire che siamo più comodi, e abbiamo questi nuovi incarichi, quindi va tutto bene. E in più c'è la divisione di Bilò, che prima non avevamo, che si chiama Kashmir, perché il Bilò ha a che fare sempre con qualcosa di serie B, mentre Kashmir vuol dire serie A, vuol dire che facciamo bene anche quello. E dunque assieme a Fabio Passoni, che era un art director bravissimo, che era il direttore creativo di Intesta, abbiamo costituito questo dipartimento, questa società, che poi vi invito a vedere, dove già abbiamo quattro incarichi e sei dipendenti. Il tutto fa parte di un obiettivo strategico, insomma, cosa vuoi diventare, cosa hai in testa? C'era una cosa molto bella che ho imparato da Pino Pilla, uno dei più bravi coppi italiani, che diceva vogliamo diventare grandi senza diventare grassi.